Amici di Maria De Filippi, proprio loro, una coppia amatissima del talent di Canale 5 parte per la luna di miele Grande passo per i due seguitissimi dai telespettatori. Colpo di scena inaspettato Arriva il grande passo per l'amatissima coppia di amici, proprio loro in luna di miele I fan sono rimasti a bocca aperta. Ecco chi sono i protagonisti del lieto evento Amici di Maria De Filippi, colpo di scena per una amatissima coppia il talent più famoso di Canale 5 Condotto da ormai tantissimi anni dalla moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, è terminato da qualche settimana Ma i protagonisti della scuola più ambita d'Italia sono sempre stars indiscussi dei social Chiunque entri nell'Accademia Mariana e alla fortuna di sedere tra i banchi della scuola d'arte Trampolino di lancio per molti artisti, è destinato ad essere ricordato Sicuramente, il talento e la bravura che contraddistingue gli allievi della scuola mariana sono il requisito essenziale per diventare famosi Ma talvolta, la visibilità arriva grazie anche alla genuinità e alla semplicità degli allievi che si sono fatti conoscere dai telespettatori A proposito di amici, avete visto che cosa è successo nelle scorse ore? Una delle coppie più amate del famoso talent di Canale 5 ha deciso di fare il grande passo, proprio loro sono partiti in luna di miele Luna di miele per loro, fan al settimo cielo arrivano buone notizie per i fan di una delle coppie più amate di amici, proprio loro hanno deciso di fare il grande passo e di andare in luna di miele Stiamo parlando di Albe e Serena. I due giovani artisti, lui cantante e lei ballerina, si sono conosciuti proprio nella scuola di Maria De Filippi e tra i banchi dell'Accademia più famosa di Canale 5 è sbocciato l'amore Hanno da poco festeggiato sei mesi di relazioni i due innamorati e per celebrare questo traguardo così importante si sono concessi una foga romantica a Parigi In realtà il viaggio è stato organizzato dalla redazione di Amici che ha aiutato Albe a fare una sorpresa alla sua bella ballerina I due dunque sono partiti alla volta di una delle città più romantiche del mondo e tra un bacio sotto la torre Eiffel e una visita al Museo dell'Uve, la coppia nata nella scuola più famosa d'Italia si è mostrata complice e innamorata dinanzi agli occhi entusiasti del pubblico che da sempre li segue e fa il tifo per loro Nonostante gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altra, Albe e Serena continuano a stare insieme e ad essere una coppia innamorata e felice I due cercano di trascorrere ogni momento libero insieme. Avvenute anche le presentazioni in famiglia, segno insomma che la storia è importante e che entrambi hanno voglia di viversi al 100% I fan non potrebbero essere più felici. Albe e Serena sono davvero due ragazzi magnifici e con il loro amore stanno facendo sognare tutti Fantasioso e ironico lui, riflessiva e dolcissima lei, si completano a vicenda Gli scatti che condividono sui loro profili Instagram con i seguitori fanno il boom di like Serena e Albe piacciono tantissimo e i fan si augurano che il loro amore possa durare per sempre